Stavamo parlando del verde, il verde in città, un'oasi verde recuperata dal degrado e anche restituita ai bambini del quartiere, il parco Peter Pan, un piccolo miracolo di civiltà urbana realizzato grazie all'associazione Urlo. Un piccolo polmone verde a due passi dallo stadio Maradona nel cuore del quartiere fuori grotta e la piccola oasi verde recuperata dal degrado e restituita ai tanti bambini e alle tante famiglie che vengono qui per trascorrere qualche ora di serenità, il parco Peter Pan recuperato e curato dai giovani volontari dell'associazione Urlo. Il parco Peter Pan è diventato oramai una realtà acquisita al nostro territorio, è diventato un parco per i bambini, è un parco per i bambini, è un parco per lo sport, è un parco per gli anziani, è un parco per tutti i cittadini residenti di fuori grotta ma anche chi non è residente a fuori grotta. E' un'oasi, è un'aria verde bellissima, curata dall'associazione con l'impegno di tutti i volontari che costantemente si impegnano per la pulizia. E' un parco oggi anche frequentato da tanti giovani, dal campetto di basket al confu, c'è la pista di pattinaggio, insomma è una realtà acquisita e il parco Peter Pan oggi è una vera e propria comunità. Un parco oltretutto diciamo sicuro? Sì, è un parco sicuro, anzi sicurissimo grazie all'impegno costante dell'associazione che tutti i giorni provvede a tenere pulito il parco, a aggiustare i giochini, a sistemare le panchine, a tenere il parco in una condizione ottimale per i nostri bambini. Perché la sicurezza è la prima cosa e abbiamo le artalene, abbiamo lo scivolo, è diventato una comunità perché? Perché oggi i cittadini vengono e ci portano, ci donano le loro cose, biciclette, tricicli, passeggi, di tutto. Allora l'appello è anche questo, di farlo diventare e farlo sentire ancora di più una comunità nel nostro quartiere, quindi siamo qui pronti a ricevere tutte le vostre adorazioni e le vostre partecipazioni in qualsiasi modo potete alla nostra realtà.